Il servizio di webmarketing, questo servizio può essere erogato direttamente dall'aderente ma può anche essere delegato alla struttura del network e l'aderente da questo servizio ne ritrae un piccolo o grande vantaggio a seconda dei casi. Comunque i nostri clienti, i vostri clienti, chi ci contatterà potrà essere anche seguito dal punto di vista del webmarketing. Il webmarketing, questo è un altro servizio che noi stiamo dando, abbiamo messo su un servizio base, 100 euro al mese, perché qual è il problema del webmarketing? Che a casa o comunque come mi dice c'è sempre qualcuno che sa smanettare su internet con i siti, c'ha la webagency, per cui se viene da noi la webagency pensa di fare webmarketing invece fa la costruzione del sito che è tutta un'altra cosa, anche qui abbiamo fatto un video che ieri che spiega bene che cos'è il webmarketing, webmarketing è tutto, meno che il sito, meno che Facebook, è soltanto produzione di contenuti e poi ne parleremo anche dopo. Allora noi che cosa facciamo? Noi come network gli diciamo al cliente, tu sei in grado di fare foto, di produrre contenuti che non siano vendesi, pollo a 3 euro eccetera, ma di dire perché, come cuoci il pollo, di dire al tuo cliente come si è trovato con il tuo prodotto, cioè di raccogliere la testimonianza. quello che serve è una stratega, cioè qualcuno che gli dia la costruzione, di fare un disegno strategico di come costruire il suo sistema di webmarketing, quindi il database, la pagina Facebook, LinkedIn, Facebook, il sito, la tipologia di comunicazione, quindi la costruzione della strategia e soprattutto il controllo, la misurazione di quello che fa, cioè che effetto ha avuto l'attività di webmarketing, come posso misurarla? Perché se tu non ti arrivano i contatti pensi che non serve a niente, se non ti arriva un contatto da internet ti dici ma io che ce l'ho a fare, invece se tu dici guarda che il tuo sito aveva prima un tempo di visualizzazione di 30 secondi, adesso con queste modifiche che abbiamo fatto la visualizzazione è 4 minuti, che vuol dire che la gente che entra invece di starci 30 secondi sta 4 minuti, sarà diverso, poi magari questo qui nel tempo è un poi ci tornerà un'altra volta, guarda che su Google Plus siamo arrivati a 200.000 visualizzazioni, il sito ha avuto 100 utenti unici al mese, quindi gli dai la quantificazione del lavoro che c'è, che non è il fatturato, ma è proprio la tua rilevanza che è sul sito, quindi che è sulla rete, cioè quanto tu pesi, quanto tu puoi incidere per portarlo a casa. Questo pacco è un servizio a 100 euro al mese, poi il cliente mi dice, vabbè ma io voglio mandare le mail, ma non ho chi me le scrive, oppure non ho il mail, non ho mai l'app, perché noi poi riusciamo anche a tracciare chi ha aperto la mail, perché se tu hai un database di 10.000 potenziali clienti, magari solo 3.000 la aprono e sapere chi l'ha aperto è importante, ok? Cioè ci sono le attività scalabili che tu puoi fare in più mano a mano che ci prende gusto e noi siamo in grado di darle tutte, però per partire, proporre al cliente un investimento da 1.200 euro all'anno, 100 euro al mese per strutturare in modo strategico un'attività di quei marchi, penso che lo possiamo fare tutti, su 50 clienti, 300 clienti sono 15.000 all'anno, perché qui si retrocede il 30%, ma quello che è importante è che date un servizio in più, potete farlo voi direttamente e rifatturiamo noi, quindi fatturate voi e poi noi rifatturiamo voi, oppure al contrario fatturiamo noi e viviamo la retrocessione. Allora, questi servizi, siamo arrivati al web marketing, sono servizi che voi del network, noi del netto possiamo dare ai nostri clienti anche se non lo sappiamo fare e servono a farci aumentare i ricavi, ok?